Ciao a tutti amici di Feed Review. Oggi vi volevo parlare di un accessorio che renderà i nostri dispositivi più verdi. Non sto parlando di una cosa che colorerà i nostri dispositivi più verdi, ma li renderà sicuramente più ecosostenibili. Sto parlando di questo accessorio, di questa pochette o calzetta, come la si vuole chiamare, e perché questa calzetta dovrebbe rendere i nostri dispositivi più ecosostenibili? Allora, innanzitutto perché è fatta, come vedete, da un'imbottitura in lana ed è lana di lama, scusate il gioco di parole, ma è lana di lama, quindi un materiale molto molto buono. Invece la copertura esterna è un tessuto, in questo caso di cotone, ed è un cotone particolare, che non è stato trattato da nessun agente chimico, nessun pesticido e cose varie, inoltre è stata anche interamente cucita a mano, quindi devo dire che i materiali di questa calzetta sono veramente ottimi. Allora, come fantasia, oltre a questa qua, che sinceramente a me non piace molto, però ho visto sul sito della Colcasac, perché il produttore è Colcasac, ho visto sul sito che ce ne sono altre e devo dire che alcune sono veramente carine. Allora, andiamo ad inserire il nostro dispositivo e come vedete coprirà alla perfezione il nostro telefono, ovviamente lasciando libera la parte superiore. L'imbottitura interna permetterà una completa pulizia anche dei vetri del nostro iPhone, ma anche dell'iPod Touch, perché in quanto è compatibile sia con iPhone 4 che con iPod Touch di tutte le generazioni e anche iPhone di vecchie generazioni, non solamente con l'iPhone 4. E inoltre l'imbottitura interna permetterà anche al nostro dispositivo di proteggersi da ovviamente graffi, ma anche da piccole cadute, nel senso che ovviamente non proteggerà da cadute che ne so, 2 metri, perché a quel caso nessuna, penso che nessuna custodia possa proteggere un dispositivo però da piccole cadute sicuramente offrirà una buona protezione, in quanto come vedete è molto spessa. Se devo trovare una cosa negativa di questo prodotto è sicuramente il prodotto in sé, nel senso, mi spiego a me le calzette non sono mai piaciute e non le ho mai comprate, perché? Perché hanno questo piccolo difetto nel senso che se noi andiamo a girare il prodotto, come vedete l'iPhone scivolerà fuori, infatti non hanno un blocco, una copertura che tenga fissato il nostro telefono dentro, ed essendo molto lasche proprio per come è fatto il prodotto, ma appunto non sto parlando solo di questo, ma delle calzette in generale per come è fatto il prodotto, il nostro telefono tenderà a scivolare fuori. Adesso io ho solamente l'iPhone e quindi non ho un iPod Touch, ma secondo me, con l'iPod Touch essendo ancora più piccolo, più stretto sicuramente, probabilmente il dispositivo scivolerà fuori ancora più facilmente e quindi qui si verrà un po' a creare qualche problema, qualora magari uno usa una calzetta per proteggere non so, l'iPod Touch o l'iPhone e lo vuole mettere in borsa e poi magari si trova il dispositivo che viaggia da solo per conto suo in tutta la borsa e questa appunto non è servita. Se a mio parere sarebbe stato l'ideale mettere un gancetto, un laccetto o qualche cosa in modo da tenere fissato il telefono dentro e in questo caso sarebbe stato veramente un ottimo prodotto. Mi sembra di aver detto tutto, non mi ricordo se ho già detto il prezzo, comunque il prezzo per Italia è di 18€, il sito per leggere tutte le caratteristiche di questa impresa che comunque è un'impresa molto anche attiva, ho letto per quanto riguarda le cose ecosostenibili, usa tutti i prodotti ecosostenibili, cotone, canapa e all'interno di questa lana di lama. Per leggere tutte queste informazioni vi metterò sotto il video il sito così potrete andare a vedere, ho visto anche che ci sono custodie non solamente di iPhone e iPod Touch ma anche per i portatili Mac e per gli iPad, quindi diciamo con dimensioni un po' più grandi. Bene, detto questo mi sembra di aver detto tutto e io vi saluto e vi aspetto alla prossima recensione. Ciao!